Il vento sta girando ancora una volta da maestro, cioè da maestrale. Come dire una piccola poesiuola, la nebbia agli irticolli piovigginando sale sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. E infatti quando c'è il maestrale arriva, arriva, scusate la calcofonia, lo spumeggiare biancastro dell'Ondi. Oggi è il Natalino. In poche parole, ieri era il Natale, oggi e il giorno dopo non c'è un'anima viva in giro, le edicole sono chiuse, le panetterie sono chiuse. I bar sono chiusi. Viva l'Italia, dove ogni giorno è buono per far festa. E chi se ne frega, poi quando arrivano le buste paca decurtate, qualche santo poi ci aiuterà, specialmente nel Livorno e nel Livornese. Arrivederci.